Allora, fatemi un po' vedere la situazione Allora Ecco, perfetto, non l'ho vista Comunque stiamo giocando Chogat Full HP Full HP Andiamo di Doran Shield Allora, io di solito parto di Ruby Crystal Così per velocizzare la build Però il Doran Shield è un oggetto così forte Oddio, però ci starebbe andare di Ruby Crystal E via Il Doran Shield è che te dà quel sustain Però dai, c'ho il TP sti casa Andiamo con questo Fanculo proprio Fanculo Così velocizziamo la build e lasciamo l'hard still Attenzione, attenzione Il raton Il raton Vai Andrei Vai Andrei Niente E niente Tutto perché Miss Fortune era un chilometro di distanza Gol Vabbè Allora, stiamo attenti che Jax ha l'ignite Dobbiamo stare un po' attenti Ti piacerebbe giocare Twitch? Con che building piacerebbe giocare Twitch? Boh È che alla fine tu lo buildi Finnicemente a P se vuoi fare delle merdate Perfetto Double kill Vai Però è stata un'ottima idea Seggiare fino alla T2 Andare fino alla seconda torre È stata un'ottima idea ragazzi Twitch era molto bello a P Adesso a P è carino Però l'han giga nerfato negli anni Quindi boh Perché era troppo forte Ok È un po' di dignità Tonk Altro grasp Bro Non so se ti conviene Fare quello che stai facendo Ok Vabbè Ha usato un'ignite Via che c'ha l'hai Ha fatto tutto lui Ha fatto tutto lui Non ho capito perché questa aggressività Nei miei confronti Non so cosa gli ho fatto di male ma Ok La wave va sotto torre Quindi ci va bene Oddio più o meno Ahia Ok Dovevo slow pusharla quella Mi sa vabbè Andiamo back Prendiamo già una giant's belt Direi Ci prendiamo anche un po' di sustain Ok Alla fine abbiamo fatto bene A partire di Di ruby crystal È che semplicemente Il doran shield è troppo forte Però Siamo in iron Ce lo possiamo permettere Questa è una bellissima control Grande L'action con Bauri Quando non ci sono più Brother Mi dispiace Mi dispiace Come si fa Eccolo Eccolo qua Tutti nel paese Tutti nel paese di Fiericonia Pensavano che Mumu Il fastidioso fosse L'essere più antico e oscuro Che avesse mai calcato la landa Ma un eroe sapeva la reale verità Il Jax con l'Ignid Il suo bastone roteava E i calcagni spappolava Ma incontrò un mostro piccolo piccolo Ma mostruoso Roteò Saltò Ma nelle sue zanne Inciampò Gna Gna M 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 Sto vedendo Vabbè Oh Che culo Il Triumph L'ha salvato Che poi un gold Resettino In realtà Ci stava Eh però Tutto è bene Ciò che finisce bene Cioè fa ridere Che Mastery Ha fatto la cosa Penso più brutta Che potesse fare Ed è riuscita Grazie ovviamente A me eh Però Cioè non pensavo Di poterlo Effettivamente salvare Ok questa Non è una cannon wave Perfetto Perfetto Molto bene Back Nom 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 Mi è venuta anche un'idea per il mana ragazzi Sapete che bello oggettino ci facciamo La Rodophages Ci facciamo Molto bello Ci facciamo Arstil Rodophages Questo qua sarebbe Fortissimo Nel livello di HP Totali Però non so se ne ho voglia Arstil Rodophages Quello Oddio ci potrebbe In realtà ci sta Il Winter's Approach Quasi quasi lo faccio Grazie gatta scarlatta Grazie mille del ride Vieni qua Vieni qua Sennò poi questo fa Jumpa sui minion Ne mi perdo la mia bellissima stack Tanto il flash Esiste per essere usato O no ragazzi E usiamolo sto flash E facciamolo volare Cazzo Lo avevo da un sacco di HP In realtà è da 400 C'è di meglio C'è di meglio Ci facciamo anche Sta wave Non è bello Ciò che è bello Ma è bello il mio pisello Quindi ce la facciamo Tanto sto Jax L'abbiamo abbastanza Annichilito Direi Ecco qua E se vabbè che ci prendiamo l'heartsteel Non era 500 500 c'hai ragione Non è comunque esagerato Ci sono oggetti E' buono È buono È buono È buono 500 sicuramente Sti clown Vabbè Dai Oh una bella Achillettina Già Una però No due Ah questo ce lo mangiamo Tanto prima che torni In lane Jax Tragedia ragazzi Il nostro mid laner È strafiddato Questo non ci piace Non ci piace Che il nostro mid laner Sia strafiddato Vabbè Non importa Noi ci fidiamo di plate Nel frattempo Tunk Guarda qua Il demolisus giogato È veramente devastante Ok Perfetto Ah Probabilmente sono morto Però Oh Ridendo e scherzando E mi ha ultato Sennò non ci arrivava E questo mi fa molto ridere Va bene Il prossimo oggetto Direi La Rodofagis Allora è un po' lenta Sta build Ma in realtà Non ci interessa Va benissimo Noi abbiamo mana Da spammare E poi comunque Ho il TP Lì sapevo che Sarei morto Con quel nocturne Però ho detto Cerchiamo di prendere Un po' di HP Ok Questo insetto Ripilato Vabbè ma poverino Non è colpa sua Che ci può fare lui? È nato così Rassista Rassista Ecco qua Un'altra bella plate Stonk Oh no Si riparta Oh no Si riparta Gnam Gnam Abbiamo il Demolish Che spacco la torre No Si invece Ok Non avevo la ulti Purtroppo Perché l'avevo usata Sul minion Ma Va bene lo stesso Siamo presi Un buonissimo Arsteel Eppure questo Siamo presi Cavoli Però ci manca così poco Faremo una cosa ragazzi Aspetteremo 50 gold in base Intanto chiacchieriamo Ah no aspetta Posso vendere le scarpe Però queste scarpe Ci danno la possibilità Di prendere più stack Quindi forse Aspettare 40 gold Ci conviene Si Perché è vero Che non ci serviranno più queste Però allo stesso tempo Avere quel 25 più 10 35 Un speed in più Ci permette di Mangiare più persone E di conseguenza È una sorta di investimento Capito Cos'è mangiato stasera Jax Mi dispiace Caffa È vero Devo prendere questo Che poi me ne basta uno Cazzo Devo andare Presto Eh tra poco Perché non ho l'ultimo Il coraggioso eroe Si sentiva rinvigorito Dopo aver ucciso il mostro Ecco si parte Ma non sapeva Che la bestia fosse immortale E che fosse ancora più affamata Gnam 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 Non sembra molto pericoloso Mostro che fa Gnam 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 Se ci pensate Ok ne mangiamo uno 1400 danni faccio Nom 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 Ciao Gabber Tutto bene Ho mangiato Jax Stasera Certo E più di una volta Fino d'ora È morto Come ti permetti eh Di qua No All'acqua Vabbè Ok Mia Cosa non si fa ragazzi Per Per un art still Cosa non si fa Per un art still Molto bene Però il nostro Midlander è 10-0 Ragazzi Insomma Sta partita La sorrendano Ma perché Il maresciallo La grande Ma non lo so Apparte che sono già grande Ok Ok Allora Quante stack Minion chomped 4 Perfetto Altri due Dobbiamo fare Andiamo back Ora ci prendiamo Una bella Warmog Sbagliato tasto Vabbè Se vuole Jax Perché deve Ingaggiarmi Un po' di sturrettate Sono troppo grosso Ragazzi Uff Almost Purtroppo Non c'ho la ult E devo smettere Di usarla sui minion Gnamte Ok Ora però Vorrei andare back Che ne dite Ottima idea Ci prendiamo I Pantaloni K 1 9 9 7 Cir Dix 100 Ma verso la strada Per casa Incontrò Metalollo Tutto inzuppato Di sangue E fasciato Di bene Il poveretto Lo implorò Aiuto Aiuto Salvami C'è a Mumu Che mi ha rapito Sono scappato Ma sta arrivando Con le sue bende Urlando Mi salverai Il mostro Impietosito Rispose Gnam 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 Che lore Intricata Ragazzi Che lore Intricata Molto bene Storia Ma poi c'è Non avete Non avete concepito Il crossover Della Bubo Del fastidio Che incontra Il mostro Chogat C'è È Incredibile Ci vediamo A un prossimo Video Roar Tigrotti Sera Rick Come va No 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 All'altro Ok E tutto bene Nico Grazie mille Carissimo Grazie Grazie Tanto Allora Ora Siamo sempre Full Percipito Un flash Da qualche Parte Molto Molto Bene Sassosassolino Cirdix Cento Lento Ma inesorabile Il sempre Più Grande Mostro A quattro Braccia Continua A mangiare Gerando Chaos E devastazione Cercando di Contrastare L'imbattibile Amumu E presto Giunta La battaglia Tra Gnom 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 Emozionante Che dire Emozionantissimo Ehm Devo Ultare ancora Un minion In tutto ciò 10.000 HP Ce la facciamo Ah Io ci provo Bisogna capire Anche il flow Della partita Perché il mio Bidlaner È gigastrafiddato Sta 11-1 Contro Twitch Che non ha Un cazzo Non è un cazzo È un bidone Basta Forse anche Che è un po' P Un po' D Non si capisce Anche la sua B Che poi fa vedere Come sto game Si è partito Con il mio team Che invade E la loro Ash Che fa double Kill sull'invade Il mio team E comunque Stanno con le pezze C'è la botra Che questo Sì Ecco perché Mi shotta Mi pareva strano Ho detto Perché mi sta Disintegra Ah Aspetta Che forse Ho un oggetto Che fa danni Sugli HP massimi Ecco perché Tonk Non mi salta Io sono full build Di nuovo E sono Full build Scusate Full HP Di nuovo Su chi è sta ulti Mid Pot Allora Vabbè Abbiamo preso Più HP possibile Non mi lamento Ora prendiamo Questa E come ultimo Oggetto Mi piace più La Titanic Sinceramente Ah no Aspetta C'ho due oggetti Perché le scarpe Poi le vendo La Lora Deas che palle Dava 600 HP Così bello Ora 4,50 È fortissimo 4,50 Ragazzi Non sono tanti CC CC Reduction Per la ulti Dici In che senso Ah CC Reduction Intendi Tenacity O cooldown Reduction Ho capito Cooldown Cooldown Reduction Boss Sì Un pochino Sì Però C'è il concetto C'ho got full HP Build HP Capito Ok Potevo mangiare Anche quello più piccolo In effetti Però Secondo voi Verebbe sfamato Non penso Proprio Poi vediamo Qual è l'ultimo Ma Riftmaker No Potrei farmi Titanic E Bloodmail Alla fine mi da 1,550 Altro 500 HP Oh Vedo che i miei alleati Fa Oh Bene 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 Si può continuare Molto bene Ecco Carretto morto di morte Allora Noi vogliamo Arrasciare Il livello 16 Adesso K-1997 Cir Dix Cento Il destino Dell'umanità Era appeso A un filo Il mostro Preistorico Si era allenato Aveva lottato E si era gonfiato Pronto ad affrontare La temibile mummia Le cui lacrime Non si distinguevano Più dal sangue Di James E le budella Di Raziel Zanne contro vende Carne contro lacrime Sudore contro lacrime Contro sangue Chi vincerà Lo scopriremo Nel prossimo Gnom 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 Livello 16 9000 HP C'è arrivato il livello Da Rodophagis È vero che ci mancava Rodophagis Picchia Sono 4 i livelli So Scopato Scopato Malamente proprio Malamente Allora Oh oh Vabbè ma questa La posso ultare Full vita E muore Cioè letteralmente Un autoattacco Che roba Ma perché il mio team Stai distruggendo tutto Ma i nemici Non difendono Cioè a me è venuta Lux Gli altri 4 Cosa stanno facendo Ok Vado back Che c'ho l'oggetto No Non ce l'ho No ci metto mezz'ora A farmi questo Non ho danni Potrei ultarlo No dai Ce la faccio Ok Back che c'ho la Titanic Con la Titanic Ci avviciniamo Moltissimi 10.000 Manca un cazzo Manca un cazzo Raga E comunque Ci manca ancora Un oggetto intero E L'elisir Cazzo Potevo prendere il drago Sono stupido Mannaggia a me Non avevo ancora La ult in realtà Mi è arrivata lì Povero Jax Che ha un item Io sono full build Praticamente Si è arreso subito Proprio Ha fatto retro fronte 10.000 HP Signori Tonk Sono immortale Ragazzi Scusate Sono andato un attimo A fare una kill in fontana Poi sono uscito Eh Che era importante Ecco Avevo giusto 10 secondi di vita Dentro la fontana Che mi hai capito Va bene Che Chogat è Chogat Che ti mangia Chogat Esatto Chogat in bulk invernale Chogat bulk invernale Ok Pilotto London Mastery Perché è riuscito Essere di inutilità Incredibile Quindi Bravo Ottimo Come va la palestra Oggi sono andato Ora voglio riprendere Un po' meglio Bene Stiamo col taxus Di Chris Intanto